bella a tutti ragazzi sono arditi e oggi siamo ritornati non in realtà non siamo ritornati in verità è il primo comunque diciamo che siamo ritornati su pokemon go però in un altro modo cioè in teoria non c'entra un cazzo praticamente noi dobbiamo chiamare dei numeri che praticamente ho preso sotto dei commenti di uno youtuber in quale non vi dico il nome perché non ve lo dico per americano così a casa perché praticamente questa questa oppure questi ragazzi hanno lasciato il numero telefonico sotto i commenti di uno appunto di uno youtuber e quindi ora io chiamo allora dobbiamo chiamare dobbiamo dire diciamo c'è a casa sua c'è un pokemon ecco una cosa del genere qualche puttana magari se dice pokemon che cazzo di pokemon senti che sei fumato allora poi diciamo se magari ci chiudono il telefono in faccia o cambiamo la voce una cosa del genere oppure vediamo un po come come va vai io intanto prendo il primo numero che sta qui questa questo questa comunque 3d1 vai parto prima io poi parte lui eh tipo diciamo stendiamo in cerca di leggendari in occupata perfetto primo fail però noi non ci arrendiamo quindi rifacciamo allora mi chiamiamo un altro numero vediamo un po c'è questa dagli così questa questo non si sa pronto per caso vicino a lei c'è un pokemon ah bello molto divertente ma è una leggendaria o com'è guarda ho una cosa leggendaria quella di vista ah itzica raga scusate se fa appunto queste cose qui questa ma purtroppo è la prima volta quindi capite ah itzica divertente ma per caso come si prende con una pokeball oppure con una mega pokeball io io sono uno stupido io sono un allenatore di pokemon io sono un allenatore di pokemon professionista e io ho catturato io io catturato le palestre asce sono asce sono asce sono Ash chi sei? Ash! Ash cosa? Ash Ash! E' un minatore di Pokémon! Ancora un minatore di Pokémon! Ancora un minatore di Pokémon! Sono Pikachu! Sono Pikachu! Vuoi dire che vengo sotto casa? Uffa sono Pikachu! Allora siccome lei non è un allenatore Io allora la giudo Allora te sei una letta di cazzo E che ho entrato sotto casa? E te la brucio con la tonica di peggina Eh non voglio usare Ma chi è? Eh? Pronto? Eh che c'è non parli più Ma che cazzo? Ho preferito chiudere Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ok quindi primo scherzo fatto Ora tocca a me Ora tocca a lui Sperando che riesca a inventarmi qualcosa di decente In caso tipo Mi manda un affanculo Ora chiamiamo un altro numero Vediamo un po' Che possiamo chiamare Vabbè raga ovviamente Eh va bene no? Cose di Pokémon Giusto così Perché oggi sta letteralmente piovendo Eh infatti mi tocca rimanere a casa su Non lo posso farlo a casa mia Porca madre Perchè Perchè Aspetta questo qui è Ata Aspetta da So qua qualche russo deve essere Video caricati Ma no ma nessuno che si registra la faccia Questa Quella ha scritto Qualcuno potrebbe hackerare O stalkerare Eh 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 Posi da Dammi la mano Che non so bravo a dire Ma avvicinati a te Perchè c'è un Pokémon C'è un Legend A chiuso Ha chiuso Porca merda Raga ha chiuso Cazzo Riproviamo Non hai detto l'ultima parola Sembrava che avesse risposto Tipo ha fatto il rumore Riproviamo Secondo tentativo Pronto 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 Senti Scusa Non è che per caso di fianco a te c'è un Pokémon Che? Cazzo Un Pokémon Come Sai com'è Sono un allenatore in cerca di Pokémon Volevo sapere se di fianco a te ce n'era uno Perchè mi interessava Pronto Pronto Eh Hai sentito Ho chiesto se c'hai un Pokémon vicino a te Pronto Io voglio Il Pikachu Come? Come? Pikachu Sì sì Pikachu Pikachu quello che mi interessa Senti come lo potrei prendere con una Pokéball o con una Megaball che mi consigli? Con una Megaball? Ah grande grande così si fa Senti un po' c'è qualche leggendario pure che ne so qualcosa così Perchè pure quelli mi servono Ok Capito? C'è se c'è qualche leggendario capito per quello mi procuri una Master Ball pure che cazzo ne so così lo prendo così al volo subito Ok A posto Vabbè comunque se vuoi Comunque tutto quello che ti ho detto è uno scherzo 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 Praticamente io e il ragazzo che sta di fianco a me abbiamo un canale YouTube Che stiamo facendo stiamo facendo uno scherzo quindi se vuoi salutare saluta Ehm voglio che mi saluti un amico Pronto? Pronto? Voglio che mi saluti un amico Vai vai che mi saluti un amico Vai vai che ti dobbiamo salutare Ehm Voglio che saluti un amico Ehm Come si chiama? Bici Gigi Bici 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 Vasco Vasco Eh V-Vasco Eh V-Vasco Eh Ok Ok Salutiamo Vasco Poi comunque il tuo numero l'ho trovato sotto il video di Ti consiglio di non mettere più Ok Ok Allora dai è stato un piacere dai parlare con te Ciao Ciao Bella Ok Questo ragazzo qui almeno è stato gentile Dai questo è stato più gentile rispetto a quell'altro diceva Oh che cazzo vuoi Vedi che ti stroppi Ti brucio la casa Ti brucio la casa Ti brucio la casa Ti brucio i pokemon Ti brucio Invece questo è stato bravo Vaffanculo Vabbè raga adesso vi taglio tutte le parti che mi metto solamente quelle lì dove non hanno disposto e tutte queste cose qui Qui non metto i beep i beep Metto solamente wind vodafone tutte queste cose qui perchè sennò poi il video dura 40 minuti Wind vodafone Che cazzo rega niente Risponde la segreteria tele... Pronto? Pronto? Sì? Per caso lei ha visto... Per caso lei ha visto un po' Pokemon Come? Per caso lei ha visto un po' Pokemon Si sapeva ragazzi Si sapeva come il buco dell'ano del cavallo Si sapeva si sapeva che si sapeva Chi è che non conosce il buco del culo del cavallo Il culo del buco del cavallo Vada su una segreteria telefonica Segreteria telefonica Risponde la segreteria telefonica di tu sorella quella cagna No ragazzi C'è il numero di steppi Non ci credo raga Mina soffrirà Annaggia sotto Porca troia Niente raga la prima parte di questi scherzi qua tutte queste cose qui è finita Molto probabilmente la settimana prossima oppure non so quando uscirà la seconda parte E fidatevi che è una cosa epica Niente se questo video qui vi è piaciuto Se questi scherzi telefonici qui vi sono piaciuti Superiamo i 50 like se volete Altri video appunto di questo genere Soprattutto se volete la seconda parte Niente se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto La passata a StarDT E ciao Konnichiwa